Giornata toscana per il ministro della salute Roberto Speranza che ha visitato prima uno stabilimento della farmaceutica Manarini e poi l'ospedale pediatrico Meyer e l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, accompagnato dal presidente della regione Enrico Rossi e dall'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Il ministro ha elogiato il lavoro svolto dalla regione toscana durante l'emergenza covid nella fase attuale dove è molto importante tenere sotto controllo gli arrivi dall'estero. Il lavoro della regione toscana va nella direzione giusta, anche in questi mesi è stato un lavoro qualificante che ha garantito esiti positivi, risultati positivi in questa regione. Il controllo dei luoghi di confine, il controllo degli aeroporti, dei nostri porti è un tema molto importante in questa fase perché è vero che la curva in Italia ed in Europa si è abbassata grazie alle misure che abbiamo adottato e anche ai comportamenti straordinari delle persone che hanno dato una mano enorme. Però questo è vero per l'Italia e per l'Europa, purtroppo non è vero per il mondo. Di qui la sollecitazione del ministro a continuare a tenere alta la guardia e investire in sanità. La crisi del coronavirus queste settimane così difficili, così intense, ci consegnano credo una nuova grande consapevolezza, cioè che il servizio sanitario nazionale sia veramente la cosa più importante che abbiamo. Dobbiamo chiudere definitivamente la stagione dei tagli che per troppo tempo purtroppo ha accompagnato la vita del nostro paese e dobbiamo aprire una nuova grande stagione di investimenti. Ieri è stato approvato definitivamente al Senato il decreto rilancio, in quel decreto ci sono 3 miliardi 250 milioni, una cifra inedita. Mediamente in un anno si metteva più o meno un miliardo in più sul Fondo Sanitario Nazionale. Io voglio ricordare che negli ultimi cinque mesi abbiamo messo più risorse che negli ultimi cinque anni, quindi abbiamo iniziato una fase nuova di investimenti straordinari. Il presidente Rossi ha quindi invitato il ministro Speranza a compiere un'analoga visita nelle prossime settimane anche a Siena.